Un Buon Natale è normale dirlo all'interno della nostra umanità, quando nelle situazioni più buie, più oscure, qualche d'uno che noi chiamiamo Dio, Gesù, si è inabissato lì e da lì ci ha fatto capire la grandezza umana, perché lui ha accolto, ha capito, si è messo vicino, ha accompagnato, ha attivato tutte le risorse che c'è in ogni essere umano che non vengono distrutte, quale che sia una volta l'esperienza anche più dolorosa e distruttiva della vita. E quindi l'augurio è sì di riscoprire questa grandezza di dignità che abbiamo dentro di noi, e poi aspetta solo che noi la tiriamo fuori, proprio nelle situazioni a volte più difficili, lì dove possiamo capire un po' di più chi ci sta vicino, dove possiamo dare fiducia a chi ci sta vicino anche dopo che casomai ha vissuto dei momenti incerti, no? Questo di non lasciarci soli, come tanti giovani stanno troppo soli, sempre che stanno sempre insieme, ma sono soli perché non trovano quelle presenze significative, disinteressate, no? Che riaprono la speranza. Quindi auguri di buon Natale alle famiglie e a tutte le nostre famiglie, soprattutto a chi soffrisse di problemi per i propri figli, e auguri a buon Natale ai tanti giovani che è possibile rinascere, ma non solo togliersi dalla droga, ma rinascere come persona e acquisire una consapevolezza, una coscienza per poter diventare svegliarini dentro la nostra società, no? Ed è per questo che ho due dei nostri giovani che adesso stavano qui vicino a me ed è bello ascoltare anche loro. Bruno che ha finito il programma già da vari mesi, si è rinserito in comunità, è bello ascoltare, e Francesco che sta avanti nel cammino. Ho fatto il mio programma e ho finito a giugno dell'anno scorso. Ecco, quello che posso dire è che comunque l'auguro più grande alle famiglie giovani che si può star bene, perché quello che io ho provato sulla mia pelle e che poi ho sperimentato sì in comunità, ma anche poi adesso che sono tornato a casa, che si può star bene veramente. Perché comunque il malessere che ho provato era troppo grande e comunque non valeva la pena continuare a vivere così. Ecco per questo comunque, come diceva padre Matteo, si può star bene veramente e ci si riesce. Non è vero che poi nella società, per quello che vedo io, tante volte ci si può far credere che uscire da tanti problemi è quasi impossibile, invece non è così. Perché comunque quello che ho provato sulla mia pelle è proprio il contrario. Che si può star bene e l'auguro più grande è che comunque tutti possano trovare questa serenità che oggi grazie anche alla comunità sento e che vivo e che ho ritrovato anche comunque in famiglia e con le persone più care.